Benvenuti alla Fiera di Catania, tra tradizione e crisi. Ma insomma c'è questa crisi qua alla Fiera? E la crisi c'è. Anche qui? Sì, sì, la crisi è in dubbio che c'è. Però noi combattiamo, diciamo che ancora resistiamo a quelli vecchi. La crisi è in dubbio che c'è, le persone non hanno come spendere, anche se qua vengono perché si risparmia al solito. E perciò, diciamo, è cambiato molto da parecchi anni fa però. Anche la Fiera, insomma, voi siete dei volti storici. Da quanti anni siete qua in questa bancherella? Diciamolo, diciamolo. Quanti anni? Tre generazioni. Io personalmente ho 40 anni. Da tre generazioni siamo qua commercianti al mercato della Fiera. Io e i miei fratelli, mio padre, mio nonno. Ci diamo, diciamo, però ci diamo sotto. Riuscite a campare, come si dice? Sì, 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 ma noi sì. Ma penso che i ragazzi con nuove attività fanno fatica sicuramente. Ma bene o male, ti dico, al mercato, visto che sempre si risparmia e trovi di tutto, ci si può arrangiare. Insomma, la Fiera è sempre la Fiera di Catania. Ma la gente viene, viene a comprare, ci sono i turisti, è sempre un luogo, insomma, di una tradizione, no? Sì, sì. Adesso devo dire, anzi, che più lavoriamo con i turisti. Perché anche questo periodo, ottobre, novembre, ci sono turisti anche del nord Italia, non per forza. Però quest'anno ci sono stati molti francesi, abbiamo visto. Cioè, il turismo è quello che un po' ci salva. I nostri catanesi non è che sono scettichi, perché lo sanno che qua si risparmia. Solo che però preferiscono dove sono più comodi, non so che parcheggiano. Comunque, combattiamo, ancora sopravviviamo, ce la facciamo. Che ci fa lei alla Fiera? No, no, sono di passaggio, esco dall'ufficio e vado via. Ma passa dalla Fiera perché è una tradizione. No, mi viene più corto passare. Ma non compra lei qua? Sì, ogni tanto, sì. Cosa trovo? Cioè, è sempre una tradizione la Fiera di Catania, no? Sì, certo, è sempre una tradizione. Sempre una tradizione, primariamente, poi comunque si risparmia. E che si compra lei? Abbigliamento oppure? No, alimentare. Alimentare, quindi si compra bene anche nel settore alimentare? Sì, sì. Quindi la Fiera rimane? Lei a scegliere un po'. Certo, però la Fiera rimane il luogo dei catanesi? Sì, sicuramente. Questo indubbiamente. Conviene alla Fiera di Catania? Certo che conviene. I prezzi che ci sono, qua alla me ce la stiamo regalando. Ma non c'è crisi? Eh, crisi, vabbè, ma magari c'è crisi, però i prezzi sono imbattibili qua al mercato. Sempre meno degli altri posti li trovo sicuramente. Cos'è che non va in questa fiera? Non va il paccheggio che le persone girano parecchio per paccheggiare, non trovano un paccheggio. Se lo trovano devono pagare un sacco di soldi e non ci conviene. Perciò vanno direzionati sul centro commerciale. Quindi avere più infrastrutture per arrivare in quello che è ormai un luogo storico? Certo. Però si sopravvive, si va avanti, no? Si sopravvive chi ha avuto un po' di soldi nel passato e allora cerchiamo di tamponare. Però mettiamo sempre soldi. In questo momento sì, perché c'è molta crisi. Crisi non ce n'è, punto è da cano. Allora, le persone non hanno capodolenne. Conoscono solo soldi senza fare nenne. Dici che lavoro non c'è. Allora, uno in lavoro si deve inventare. Io sono signor Torre dell'olio e sono una persona responsabile di quello che faccio nella mia vita. Le persone non hanno capito che cosa è l'olio. Loro lo sanno. Il lavoro c'è, funziona. E so come c'è l'invidia sul lavoro di questi lavori. Non sono capaci di buscare 5 euro, 100 euro in pere pere. Io avevo uno soldi facile. Dici, lavoro in Nigeria. Il lavoro uno se lo deve inventare. Poi sto di rubare. Uno si inventa il lavoro, ma tanti è onesti. E soprattutto rispetto a questo. Io allora stupisco, devo rubare queste cose. Lo guardavo io perché non si può rubare chi ora. Finito. Finale che lascia la chiara. Qua stessa cosa. Dici, mi chiedo mandare che rubare. Finito. 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 Grazie a tutti.